Tecnica è umanità, questa è la posizione del problema come ci viene dagli organizzatori, tecnica è umanità ed è il problema perché vuol dire, questa espressione vuol dire due cose sostanzialmente opposte. La prima, l'umanità non può fare a meno della tecnica, in ogni tempo della sua esistenza, in ogni forma della tecnica, non dico il sapiens sapiens, ma il pitecantropus erectus. Ha sempre dovuto ad operare strumenti perché siamo deboli, brutti, lenti, non riusciamo a rampicarci su un albero se uno smilodon ci corre dietro. Dobbiamo trovare una trappola, dobbiamo inventarci strumenti. Siamo stati bravissimi, abbiamo sterminato i mammut, per cui figuratevi, con la tecnica ci conviviamo, ci viviamo, senza tecnica moriremmo bene. Questo è il primo significato. Secondo significato, tecnica è umanità, vuol dire che la tecnica ha sostituito l'umanità. Noi non abbiamo più a che fare con l'umanità, abbiamo a che fare solo con la tecnica. Questa è la fobia della sostituzione. è, direi, il motivo più profondo dell'avversione per la tecnica. Possiamo dire l'autonomia versus l'automatismo. L'autonomia del soggetto, l'orgoglio del soggetto moderno, homo faber, che crea il mondo attraverso la ragione strumentale, da una parte, e dall'altra la nemesi del soggetto moderno, che si trova crocifisso in mezzo agli ingranaggi, come c'è qui. Questa è l'epoca in cui la tecnica era essenzialmente meccanica, e oggi si trova sottoposto a una sorta di transustanziazione elettronica. Noi non esistiamo come persone, esistiamo come avatar, o esistiamo come impulsi elettronici, grazie ai quali siamo conosciuti, riconosciuti, premiati e puniti, controllati e ogni tanto liberati, ma soprattutto controllati. E in ogni caso la nostra libertà è palesemente conculcata. Non si può nemmeno portare il pattume nella discarica, perché ti hanno dato una chiave che puoi aprire certi bidoni della spazzatura solo due volte al mese. E se fai di più non ci riesci, e se rompi il bidone della spazzatura ci sono le telecamere che ti controllano e vai pure in galleria. Questo è il livello minimo del controllo in un paese democratico. E poi si può fare molto di più, vediamo di capire come, quando e perché nasce la critica della tecnica. E che premetto che una serie di problemi che emergono dalla storia della critica della tecnica sono problemi che, a mio avviso, non hanno soluzioni, perché sono mal impostati. Adesso, anticipando, così ci capiamo fin da subito, c'è una tesi che dice la tecnica è un'intrusione dell'uomo nella natura e quindi tutti i problemi della tecnica sarebbero superati se la smettessimo di operare questa intrusione nella natura. non sono per niente d'accordo, ma insomma è una tesi che c'è, forte. La tesi opposta è la tecnica è la bolla esistenziale, è la bolla metafisica sostanzialmente, dentro la quale viviamo siamo tradotti in tecnica e non c'è niente da fare. Il nostro sviluppo, come umanità, sarà lo sviluppo della tecnica. Per cui, massima considerazione sistemica della tecnica, la tecnica è la nostra natura, è la nostra seconda natura, ma la prima ce la siamo dimenticati. C'è solo questa ed è una. L'altra, la tecnica è una violenza verso la natura, verso la natura umana e verso la natura extraumana e quindi in quanto violenza fa male a noi e al mondo. Due ipotesi con le quali io non sono d'accordo e poi vi dico quello che penso. Bene, fin qua. Allora, la critica della tecnica non nasce insieme al pensiero della tecnica. Prima è stata pensata la tecnica, molto dopo è stata pensata la critica della tecnica. Chi è che ha cominciato a pensare la tecnica? Il primo e unico filosofo, Platone, il quale adopera continuamente tecnè, tecnai, in italiano viene tradotto con arte, ma non arte nel senso di fare un quadro, arte nel senso di produrre artifici. agire, agire. E ad opera tecnica sempre, per dire cose anche diversissime fra di loro, è tecnica quella del vasaglio che costruisce un vaso, è tecnica quella del filosofo che educa un essere umano, anche se sono due operazioni molto diverse, perché generare un vaso vuol dire mettere al mondo una cosa che prima non c'era, educare un essere umano invece per Platone sempre vuol dire non inventarsi un essere umano, ma portare un essere umano a sapere ciò che già sa e a essere ciò che può già essere. Per cui non c'è una fabbricazione di sapere né una fabbricazione di umanità, c'è la maiertica. Però il verbo, il termine è tecnè ed è sempre quello, nonostante sia Platone quello che istituisce vari e diversi livelli di realtà a cui corrispondono diversi livelli di sapere, dall'immaginazione che è il più basso alla noesi che è il più alto, in tutti questi livelli c'è tecnica, tant'è vero che è così lontano da criticare la tecnica che per indicare il modo attraverso il quale vi è appunto il movimento filosofico che porta un essere umano al più alto grado di conoscenza che per lui e per Platone e per di più le nature umane sono pure diverse per cui non tutti possono diventare filosofi ma tutti possono essere al meglio ciò che la loro anima consente loro di essere. Bene, per indicare la operazione del filosofo maieutica c'è un verbo come diamechanese, c'è la parola mechanè e mechanè vuol dire primariamente inganno, naturalmente per lui non vuol dire inganno, vuol dire elaborazione. Un filosofo è uno che lavora sull'anima prima sulla propria e poi su quella degli altri. Bene, per cui tecnica qui non c'è mai dubbio che sia criticato. È criticato chi non riesce a capire che il meglio che c'è al mondo sono i filosofi, certo. È criticato chi mette a morte i filosofi, certo. È criticato chi adopera la parola per mentire come i sofisti, certo. Ma certamente non è criticato né il vasaglio che fa vasi, né il filosofo che educa e governa. È tutta tecnica. I critici della tecnica non a caso vedono in Platone il peccato originale, cioè il pensiero occidentale, il pensiero della tecnica per colpa di Platone. Non per uno come Heidegger, ad esempio. Bene, Aristotele. Con Aristotele si pongono le basi della critica della tecnica non perché egli la critichi, non c'è motivo perché un greco critichi la tecnica, ma perché differenzia molto chiaramente i diversi modi di agire. Qui non sono neanche livelli come in Platone, sono modi di agire. C'è un'azione che esce dal soggetto e rientra nel soggetto e questa si chiama Praxis. Stiamo citando il famoso sesto libro di retica Nicomachea. E questa è la passi ed è una modalità di azione più alta di quella tecnica che in realtà non viene più chiamata tecnica, viene chiamata poiesis. Fabbricazione, cioè è l'azione che esce da un soggetto e non torna al soggetto, ma va a finire in un oggetto. Un vasaio produce un vaso e si ferma lì. Per cui abbiamo Praxis e poiesis. Chiaramente in decalage l'uno rispetto all'altro. Però nessuno si straccia le vesti perché ci sono i vasai. Ecco, certo. È un modo di vivere di lavorare tipicamente inferiore all'ozium filosofico. Questa è tutta tutta la classicità è così perché c'erano gli altri che lavoravano. Cioè l'idea che un uomo diventa filosofo lavorando ce l'ha sostanzialmente Hegel. Eh, la prima del soggetto è lo spirito. La storia dell'Occidente è la storia di un lavoratore. ma non possiamo pensare che Platone e Aristotele però però Aristotele pone un dislivello chiaramente. Bene. Tace la critica della tecnica poi ce n'era anche poca. Non tanto poca quanto crediamo ma insomma non ce n'era tanta. C'erano tanti degli schiavi che facevano facevano al posto della tecnica. Beh, io ho trovato ho trovato un luogo e un autore. Allora, la tecnica quando c'è? C'è quando ce n'è molta di tecnica. Quando la tecnica diventa invasiva. Quando diventa un 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 segnale tipico del paesaggio. Tutto il lungo medioevo conosce la tecnica ma perbacco sì. Voglio dire la tessitura la conoscevano ci facevamo i soldi facendo facendo tessuti pregiati però non era una tecnica che divorasse l'uomo ma anche se facevi il contadino il servo della greba quella era la tua condizione esistenziale non era colpa della tecnica quella era colpa del fatto che eri nato male. Perché ci sia critica della tecnica ci vuole l'idea che c'è differenza fra praxis e poiesis prima di tutto. E poi c'è ci vuole che ce ne sia molta di poiesis che che ti ti minacci in un qualche modo cioè e questo quando c'è beh ci vuole l'età moderna ci vuole l'età moderna con alcune rivoluzioni soggettivismo individualismo contrapposizione uomo mondo contrapposizione per cui il mondo è il nostro oggetto proprio Gegenstand quello che ci sta di fronte e in mezzo fra noi e l'oggetto fra il soggetto e l'oggetto c'è la ragione strumentale e voi direte ma perché? Perché non c'è altro perché il terreno su cui si distribuiva l'esistenza è diventato una voragine cioè la società cristiana si è spaccata e da un tessuto omogeneo sono emerse delle contraddizioni delle crisi profondissime e sono emersi degli individui singoli che devono trovare il modo per stare al mondo e possibilmente anche starci bene cioè il passaggio dalla manifattura al capitanismo che si fa solo con le macchine solo con le macchine sempre più macchine fino a quando le macchine diventano tanto invasive che non le puoi più far lavorare in casa col ferlax system ma le devi portare in un posto pieno di macchine cioè una fabbrica dove questo capita in modo primario non c'è molta critica della tecnica sembrando compiacimento per la tensione in Inghilterra quindi c'è in Germania che c'è l'idea che qui sta nascendo un problema e c'è l'idea che questo problema mette insieme ecco mette insieme cioè qui la tecnica viene investita in realtà di significati che la trascendono la c'è l'idea che dentro la tecnica ci sia l'individualismo che dietro l'individualismo ci sia la ragione strumentale che dietro la ragione strumentale ci sia la distruzione di un preteso presunto tessuto esistenziale organico per cui la tecnica è insieme produzione di oggetti e cioè popola è l'attività che popola il mondo di cose e al tempo stesso è produzione di nichilismo perché quelle cose sono sospese sul nulla sono degli artifici prodotti da un essere che è sospesso artificiale l'individuo questa cosa qui viene in mente a un romantico tedesco i veri romantici sono tedeschi i nostri non sono romantici che si chiama Novalis il suo soprannino e che scrive un libriccino famosissimo la cristianità ovvero sia l'Europa breve e famoso in cui c'è allora è il solito protestante che si converte al cattolicesimo perché appunto protestantesimo è scissione e invece cattolicesimo è compattamento il protestantesimo è liberazione dell'individuo ma liberazione eccessiva e quindi l'individuo dopo essersi liberato deve tornare ad essere capace di fraternità cosa che fa i luterani non è proprio il primo risultato di quella religione ecco di quella interpretazione del Cristo